Nuovo ospedale e l'opera non è compromessa. Spada, PD, audizione in Commissione europea per impegnare nuovi fondi. Il nuovo ospedale di Siracusa è una priorità per il territorio. È richiesto una risoluzione che impegnerà il Governo centrale a liquidare ulteriori 148 milioni di euro per il completamento dell'opera. Dichiararlo è Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico. In relazione alla realizzazione del nuovo nosocomio che servirà l'intera provincia siracusana è discusso in un'audizione alla Commissione regionale esame delle attività dell'Unione europea. All'audizione erano presenti il Direttore generale dell'Assessorato regionale della Salute e il Delegato dell'Ufficio Programmazione e della Presidenza della Regione, sottolinea Spada. Di concerto abbiamo stabilito e confermato che le risorse da impiegare per il finanziamento degli ulteriori 148 milioni di euro che serviranno al completamento dell'opera saranno quelle del piano di sviluppo e coesione. In merito però ad oggi non esiste nessun atto ufficiale, per questo chiesto e ottenuto dalla Commissione una risoluzione che impegna Roma a derogare queste ulteriori risorse economiche. Nei prossimi mesi ci sarà un atto formale da parte del Governo regionale che impegnerà tali risorse. Sulla realizzazione dell'opera del Parlamento regionale aggiunge il progetto dell'ospedale ad oggi non è compromesso perché con uno stralcio funzionale possono essere già impegnati i 200 milioni di euro per l'avvio dei lavori. La prossima settimana la Commissione approverà la risoluzione per i fondi ulteriori. Seguiremo la vicenda da vicino nell'interesse dei cittadini seracusani, ma non solo.